Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Che ci sia bisogno di unione, così come di amore, specie in questo periodo delicatissimo per la corona inglese, sono cose evidenti, e che William e Kate siano due dei pilastri per eccellenza della corona inglese è cosa altrettanto nota. Ricordiamo tutti il giorno del loro matrimonio, un matrimonio da record, seguito da milioni e milioni di utenti. Era il 29 aprile del 2011 e Kate, stupenda a dir poco, incantò tutti con la leggiadria dei suoi movimenti mentre avanzava lungo l'altare con il suo meraviglioso abito bianco, i capelli morbidi, ondulati in un sorriso radioso, quello che ha conquistato immediatamente grandi e piccini. Oggi sono passati 13 anni dal giorno del loro sì, ricorrendo il loro tredicesimo anniversario di nozze, sebbene molte cose siano cambiate, a iniziare dalla neoplasia di Kate. Dopo l'intervento all'addome, effettuato alla London Clinic, è stata la stessa futura regina d'Inghilterra a rompere il silenzio, rivelando, a marzo, di avere un tumore. Da allora in poi le condizioni di salute della principessa dei Galles hanno tenuto tutti col fiato sospeso, destando fortissima apprensione, con aggiornamenti di giorno in giorno sulla sua neoplasia. Proprio oggi, 29 aprile 2024, nel giorno dei festeggiamenti del tredicesimo anniversario di matrimonio di Kate e William, è accaduto un qualcosa di davvero forte che non è passato certo inosservato. Quest'anno i festeggiamenti per il loro tredicesimo anniversario di matrimonio sono stati ben diversi rispetto agli anni precedenti, in quanto William e Kate hanno scelto di non condividere sui social scatti e video commoventi come accaduto, ad esempio, per i loro dieci anni di matrimonio, quando avevano scelto due scatti del fotografo Chris Floyd, in cui erano immortalati in un tenero abbraccio fuori da Kensington Callas. L'anno scorso hanno pubblicato sul loro account social uno scatto di Matt Coriess, in cui andavano sorridenti in sella alla loro bici, nelle campagne del Norfolk, da soli, senza i loro tre figlioletti, corredando il post con la scritta. 12 anni e un emoji a forma di cuore rosso.